Salve a tutti, oggi presso il nostro salone è arrivata una bellissima Audi A5 Sportback allestimento Sport Business il motore di cilindrata 2.190 CV vetri oscurati entriamo dentro sul dietro faccio vedere anche l'interno entriamo davanti monta la versione sport all'interno sportivi poi col pacchetto business che comprende il navigatore navigatore il mazzettatore automatico il regolatore velocità adattativo con radar qua a tutte al display parzialmente digitale col centrale multifunzione comando vocale il suo acetti lega da 18 pollici parziale questo è un bellissimo blu scuro niente da dire questo è solo da provare grazie grazie a tutti alla prossima